Sono felice. È una nuova sfida. Una nuova avventura. Spetta così Irving Lozano da nuovo giocatore PSV. Il club che l'ha lanciata prima di venderlo a Napoli nel 2019 non appena sceso dall'aereo ho pensato a tutto ciò che avevo vissuto con questa squadra. Avevo 21 anni quando sono arrivato. E per questo felice di tornare. Lozano lascia Napoli dopo 4 anni intensi tra delusioni e gioie. Come la vittoria dello scudetto.